Benvenute, buongiorno, abbiamo qualche piccola novità della gamma Drake 2019-2020, la Misty nella fattispecie, il modello freestyle al femminile, una tavolina veramente molto polivalente, veramente divertente per tutte quelle rider che hanno già abbastanza dimestichezza con l'andare e vogliono espandere e migliorare la loro tecnica con un mezzo capace di cavarsela ottimamente in tutte le condizioni. È una tavola con un profilo micro camber centrale per avere un'ottima stabilità e reattività, non che è pop quando cercate qualche manovra. Fletto rocker in punta e coda riesce a darvi un pochino più di facilità nello svincolo della lamina, da una curva all'altra, nell'atterraggio da qualche rotazione e come risvolto, insomma, piacevole, ha un discreto galleggiamento in neve fresca. Core in legno, soletta, estrusa, se non sbaglio, yes, extrude 4000, bella, robusta, molto facile da fare a manutenzione. È una tavola twin tip, essendo della gamma freestyle di Drake, quindi punta e coda gemelle per agevolare appunto gli atterraggi in switch, la conduzione appunto in switch. È la tavola che farei se ho già migliorato la mia tecnica, ho già i fondamentali e voglio una tavola capace di accompagnarmi nel mio miglioramento dal punto di vista dei trick. Validissima anche in pista, se la cava veramente veramente bene, è sicuramente una tavola da avere tra le proprie scelte. Potete provarla in varie delle nostre uscite, potete dare un'occhiata sul sito, trovate tutto quanto ben descritto. Se avete domande invece sulla tavola in sé, scrivetesi sui social, qua sotto, la mail, una telefonata, nessun problema. Siamo a disposizione. A presto, ciao!